Un'amicizia speciale. È così che il ministro degli esteri maltese ha definito i rapporti tra Italia e Malta nel corso della conferenza stampa a seguito della bilaterale con il ministro Terzi. Durante l'incontro i due ministri hanno affrontato il tema dell'immigrazione, della collaborazione sulle operazioni di ricerca e soccorso in mare e dell'impegno coordinato sulle politiche giovanili. La bilaterale è stata anche un'occasione per ribadire il comune impegno dei due paesi nel rafforzare la centralità del Mediterraneo nell'agenda europea. Spazio anche ad alcuni temi internazionali, tra cui crisi siriana e processi di transizione nei paesi delle primavere arabe. Intendiamo rafforzare il coordinamento operativo fra le nostre capitanerie di porto, le nostre strutture amministrative, ribadendo l'importanza dei programmi di formazione congiunta per il personale che si occupa del soccorso in mare. Garantire la sicurezza, la vita delle persone che affrontano questo enorme rischio cercando di arrivare sulle nostre coste è la priorità più alta per i nostri paesi. Abbiamo sempre stabilito questo principio fondamentale che fra gli amici, fra i paesi che hanno questa storia di attiva collaborazione, possono sempre far di più anche tramite non soltanto gli incontri a livello politico ma anche tramite tutto quello che possiamo fare ad altri livelli. Il foro 5 più 5 con il vertice dei capi di Stato e di Governo ospitato da Malta in ottobre è stato un passaggio politicamente molto significativo per la collaborazione nel Mediterraneo. I ministri si sono anche confrontati sul caso dei due marò italiani detenuti in India e il capo della Farnesina ha fornito un quadro aggiornato dell'azione italiana per ottenere il loro rilascio. La grande competenza di questo paese è sicuramente un elemento rilevante per sostenere la voce della comunità internazionale affinché questa vicenda venga risolta rapidamente. Per la concessione del permesso a recarsi in Italia per motivi umanitari, per le festività natalizie prosegue domani, continuo a essere fiducioso che abbia un esito favorevole, è più che evidente che è quasi un anno che i nostri due ufficieri di Marina sono in Kerala, in condizioni di attesa. Abbiamo rispettato tutte le regole dello Stato indiano e dello Stato del Kerala e se ci verranno chieste delle garanzie continueremo a rispettare le regole.